I fenici, signori del Mediterraneo e inventori dell'alfabeto. Dovete sapere che queste popolazioni, insomma le popolazioni che si affacciavano sulla costa del Mediterraneo orientale, perché avevano subito nel corso dei secoli delle invasioni da parte di popolazioni più potenti da un punto di vista militare, ad esempio come gli Ittiti e gli Egizi. Ora, che cosa è successo a un certo punto? È successo intorno al 1250 che gli equilibri che si erano consolidati nella zona, nella regione, vengono un pochettino meno. Perché, ditemi, stavo dicendo quindi che intorno al 1250-1200 a.C. c'è qualcosa che mette profondamente in crisi gli equilibri che c'erano nella zona, nella regione. Equilibri che erano stati consolidati con quella battaglia di Kadesh, magari della quale vi ricordate, che aveva visto fronteggiarsi da una parte gli Egizi e dall'altra gli Ittiti. Gira. Gli Ittiti. Era stata una battaglia che era stata senza vincitori e senza vinti. Però, proprio poco tempo dopo questa battaglia, c'è l'invasione dei popoli del mare. Ecco, il Mediterraneo è senz'altro, facciamo vedere questa slide, il fulcro del mondo antico. Ecco, stavamo dicendo quindi che ci fu questa crisi nella prima metà del XII secolo dovuta a questi movimenti migratori. Questa crisi portò alla decadenza e praticamente alla dissoluzione dell'impero degli Ittiti, da una parte. Poi, la crisi dei palazzi micenei. Questo, quando studieremo i cretesi e micenei, vedremo che anche loro hanno risentito, insomma, di questo cambiamento negli equilibri nella zona. La difficoltà dell'Egitto, il quale però non crollò, a differenza dell'impero degli Ittiti che crollò a causa dell'invasione di questi popoli del mare, l'impero degli Egizi non crollò, però risentì effettivamente di questo scossone. è la nascita di piccoli regni come quello dei Filistei, dei Cananei. Cosa abbiamo visto con il documentario? Abbiamo visto che stanno studiando, gli studiosi, stanno discutendo se effettivamente i Fenici sono discendenti dei Cananei oppure no. se c'è un legame, insomma, fra Fenici e Cananei oppure no. Sta di fatto, comunque, che proprio i Fenici furono quelli che beneficiarono maggiormente di questa invasione dei popoli del mare. Nel senso che dopo questo periodo, insomma, delle invasioni dei popoli del mare, i Fenici ottennero una maggiore autonomia, una maggiore indipendenza rispetto al periodo precedente. si ebbe poi l'insediamento di ebrei in Palestina e di aramei in Siria. Ma, dicevamo, soprattutto ci interessa lo sviluppo delle città fenice sulle coste del Libano. I Fenici si trovano in una condizione, insomma, anche fisica, geologica, geografica, volevo dire, che favorisce la navigazione. Infatti, non hanno un grande terreno a disposizione, non hanno una pianura come nel caso del, appunto, abbiamo visto dei Sumeri che avevano una Mesopotamia. come hanno le popolazioni della Mesopotamia oppure le popolazioni dell'Egitto. No, hanno una, come unica risorsa, le foreste di cedri. Quindi, già sono portati, naturalmente, a costruire. Usavano il legno senz'altro per le abitazioni, per diciamo, l'arredamento, eccetera, ma anche potevano usare il legno e lo usarono, infatti, per costruire le navi. Pertanto, naturalmente portati a questa attività della navigazione. Stretti dalle montagne, le montagne del Libano, ne deriva quindi una naturale attività mercantile e artigianale. Pertanto, si specializzano appunto nell'artigianato e nel commercio. In realtà, esistevano città autonome in quella zona già dal 2500 avanti Cristo. Però, è chiaro che fu proprio l'invasione dei popoli del mare a creare i presupposti per uno sviluppo notevole e anche, diciamo, l'evoluzione della navigazione. Per esempio, si dice nel libro di Ezechiele della Bibbia, si dice, si riconosce che Tiro era una città stupenda, era una città ricchissima, dove si acquistavano grano di minnit, profumo, miele, olio e balsamo grazie alla lavorazione, ad esempio, di pietre preziose o della porpora. Il colore porpora è un rosso che si ricava dal murice che è un mollusco che vive nel Mediterraneo. I fenici ricavavano la tinta dal pigmento e coloravano gli oggetti con la porpora. I beni così realizzati, ecco perché dicevamo anche l'artigianato, erano beni di lusso e quindi permisero ai fenici di arricchirsi tantissimo grazie a questi commerci. Avevano scoperto come lavorare, come colorare. dovete sapere che i vestiti allora era abbastanza difficile colorarli e quindi loro che erano invece in grado di colorare questi vestiti riuscirono ad ottenere grandi ricchezze. Per questo. Il termine fenici deriva proprio da foinis che è una parola greca che vuol dire rosso-porpora. Praticamente i fenici sono stati chiamati così dai greci. Cioè i greci hanno dato il nome a questa popolazione. Un'altra straordinaria invenzione dei fenici è quella dell'alfabeto. Dovete sapere che praticamente l'alfabeto che noi stessi usiamo noi stessi utilizziamo deriva dall'alfabeto dei fenici. Forse proprio per necessità contabili nasce l'alfabeto fissato a biblo intorno al mille avanti Cristo. Dovete sapere una cosa abbiamo visto che anche le popolazioni della Mesopotamia e gli egizi conoscevano la scrittura. Chi però era detentore di questa abilità gli scrivi anche perché era una scrittura ideografica composta da migliaia di segni diversi e quindi dovevano tramandarsi di generazione in generazione queste conoscenze che erano conoscenze anche piuttosto complicate perché non tutti potevano imparare ad esempio tutti questi segni e quindi a dominare la scrittura. I fenici non avevano delle classi sociali come quella degli scrivi erano essenzialmente abbiamo detto commercianti o artigiani quindi non avevano molto tempo da dedicare alla scrittura allora forse anche per questo cercano di elaborare un sistema diverso per cui il segno corrispondesse non all'idea ideogramma né tantomeno all'oggetto che doveva essere appunto raffigurato rappresentato descritto eccetera ma che corrispondesse al suono i suoni che noi possiamo emettere sono limitati sono circa 26 con i nostri organi appunto della parola e le sillabe sono limitate anch'esse le sillabe sono una novantina la scrittura non era privilegio di pochi come presso l'Egitto dove c'erano gli scrivi e quindi questi commercianti questi navigatori eccetera inventarono un sistema per cui anche loro potevano imparare a scrivere per mettere per iscritto quelli che erano i contratti ad esempio di compravendita l'alfabeto fonetico fenicio influì direttamente sull'alfabeto greco e su quello romano ecco qui avete una scritta alfabetica su un sarcofago fenicio da biblo risalente al XII secolo a.C. i fenici elaborarono un sistema di scrittura alfabetica che si diffuse grazie ai loro contatti nel mondo del Mediterraneo siccome erano grandi commercianti erano signori e padroni abbiamo detto dal punto di vista commerciale ovviamente del Mediterraneo ecco quindi che questo alfabeto fu conosciuto da tantissime altre popolazioni l'alfabeto fonetico nel quale ogni segno indica un singolo suono facile da apprendere si diffuse con rapidità questo sistema fu più tardi accolto e adattato dai greci e tramite loro passò poi agli etruschi e ai romani i fenici crearono una rete di fiorenti città nel bacino del Mediterraneo qui avete ad esempio la ricostruzione della collina di Birsa con la città unica e il porto circolare in Tunisia le rovine dell'antica città punica di Kerquane sempre in Tunisia avevano creato dei porti straordinari questo porto che vedete qui a sinistra di Birsa assomiglia molto a quello di Cartagine andiamo pertanto alla pagina ecco ricordate comunque quando studierete l'alfabeto fenicio ricordatevi che per esempio il segno della A deriva proprio dalla prima lettera dell'alfabeto dei fenici che rappresentava praticamente la testa di un bue provate a immaginare un bue con le corna però rivolte verso terra è più o meno la lettera A è una stilizzazione di questo quali sono le città più importanti dei fenici sin dall'età del bronzo sono Biblo e Berito Tiro e Sidone gli egizi poi conoscendo queste città erano i rapporti con queste città città fenice ebbero anche loro degli scambi culturali fra il 2000 e 1100 a.C. vennero dominati dall'Egitto ma sempre rispettati e lasciati parzialmente autonomi per la loro capacità di scambio la supremazia spetta fino al 1500 a Biblo poi a Sidone dal 1500 al 1200 e dal 1200 in poi a Tiro ovviamente dall'800 in poi la città fenicia più importante sarà la città di Cartagine che all'inizio era una colonia ma poi diventerà come vedremo quando studieremo le guerre puniche diventerà la città punica più importante il potere è affidato a un re quindi le città fenice sono governate da un re ma questo re non è un monarca assoluto né tantomeno una incarnazione di Dio come credevano gli egizi è una sorta di comandante che però deve anche fare riferimento ad una oligarchia mercantile molto forte molto molto importante è molto influente influisce sul re e quindi le sue decisioni non sono decisioni prese da sole insomma in modo assoluto nelle colonie prima fra tutte Cartagine il re è presto sostituito da suffeti magistrati eletti annualmente controllati da un collegio di nomi di nobili quindi a Cartagine ci sono dei magistrati che assomigliano molto ai consoli romani perché sono eletti ogni anno e devono quindi già dal momento che sono la loro carica annuale devono sottostare alle spesso alle opinioni degli influenti aristocratici del senato chiamiamolo così dopo l'ottocento avanti cristo i fenici vennero sottomessi prima dagli assiri poi dai babilonesi e infine dai persiani ma tra i loro principali nemici c'erano i greci perché i greci erano rivali nel commercio pertanto quando arrivarono i greci con Alessandro Magno distrussero la città di Tiro proprio perché i fenici erano tradizionalmente nemici dei greci in realtà quindi proprio per le loro abilità rimasero relativamente autonomi pur nella sottomissione formale rimasero relativamente autonomi durante il dominio degli assiri dei babilonesi e dei persiani furono solamente i greci macedoni che si imposero in maniera dura crudele se vogliamo nei confronti dei fenici arrivarono ad abbattere essenzialmente la fenicia in quanto tale mentre gli altri gli altri imperi erano abbiamo visto gli egizi ma poi anche assiri babilonesi e persiani diciamo che avevano trovato delle soluzioni di compromesso con i fenici divennero anzi grandi alleati dei persiani in funzione antigreca i fenici quando ci furono ad esempio i contrasti e le guerre fra persiani e greci quando i greci prevalsero sui persiani invece la loro civiltà si estinse ecco risale dicevamo al 332 avanti cristo il momento in cui arrivano i greci macedoni in fenicia vanno a sterminare i fenici a distruggere definitivamente le loro città e quindi rimarranno vive solamente le colonie in particolar modo abbiamo detto Cartagine fino a quando anche Cartagine non sarà distrutta dai romani parliamo adesso della religione dei fenici ecco erano dei politeisti quindi credevano in tante divinità qui vedete ad esempio due raffigurazioni quella di un dio giovinetto e della dea astarte la dea astarte è quella stessa divinità che i romani pensavano fosse giunone pertanto quando conobbero la civiltà dei cartaginesi la civiltà dei fenici dei cartaginesi pensarono che loro veneravano giunone perché effettivamente la dea astarte aveva molti tratti in comune con la dea giunone la dea romana giunone passiamo adesso alla pagina 88 a parlare ecco sì c'era anche il dio Baal che era molto importante sì era visto come il diavolo invece presso gli ebrei infatti molti ebrei erano anche attratti da queste divinità da questi riti da questi culti dei fenici dei cananei eccetera e quindi molti di questi ebrei avevano seguito i riti di Baal i riti di Baal risalirebbero alla città di Ugarit come abbiamo spiegato presso gli ebrei questi riti erano considerati idolatrici quindi erano fortemente osteggiati dagli ebrei ecco stavamo dicendo adesso della navigazione del commercio insomma delle attività che caratterizzano i fenici sono stati da sempre mercanti e navigatori e hanno collegato le regioni mediterranee grazie ai commerci hanno fatto dei viaggi come vedete anzitutto costeggiando il mediterraneo meridionale quindi magari partendo da Tiro e poi attraverso Alessandria in Egitto e Cirene che questa città potete vedere da cui poi nasce il nome della penisola Cirenaica sono giunti fino nell'attuale Tunisia dove hanno fondato Cartagine abbiamo detto intorno all'800 a.C. qui dice 814 a.C. che poi è diventata autonoma e anzi abbiamo spiegato che è diventata la città fenicia più potente soprattutto nel Mediterraneo occidentale si erano spinti poi oltre le colonne d'Ercole e le rotte dei Fenici erano giunte quindi oltre le colonne d'Ercole a sud come dicono alcuni forse addirittura a circunnavigare l'Africa e a nord verso perfino la Britannia cioè l'attuale Gran Bretagna quali sono le innovazioni tecniche che hanno permesso a loro di fare dei viaggi così lontani oltretutto anche hanno fondato delle colonne nella Sicilia occidentale se andate a vedere Mozia ma anche la stessa Palermo e anche in Sardegna e nelle Baleari hanno fondato delle colonne nonché a Creta hanno utilizzato delle nuove tecnologie riguardo al timone alla navigazione notturna e alla chiglia e quindi come vedete hanno anche diffuso il loro alfabeto come abbiamo detto la loro cultura e l'arte perché erano abili artigiani abbiamo visto ricordate la lavorazione della porpora ecco che hanno sviluppato quindi nei secoli intorno al 1100 1900 800 sono stati secoli di maggiore splendore della civiltà dei Finici una sorta di impero coloniale anche grazie alla loro perizia navale l'esperienza erano in grado di lavorare e commerciare i metalli lo stagno il ferro il rame erano questi infatti i secoli in cui si ebbe la scoperta della lavorazione del ferro effettuarono scambi con luoghi ricchi di fonti primarie come l'isola di Cipro la Sardegna la Spagna meridionale erano artigiani specializzati nella lavorazione dello stagno che insieme con il rame poi dava la lega del bronzo nella lavorazione del piombo del ferro e dell'argento molto importante fu anche la lavorazione del vetro dell'avorio e della porpora pensate alle statuette ai bassorilievi in avorio che ci sono pervenuti oppure gli amuleti in vetro in monili in bronzo è in pietre dure